ragazzi buongiorno buon pomeriggio buonasera ciao mulla apriamo questo video con la domanda quale percorso è il migliore nel 2022 il giro il tour o la vuelta perché recentemente è stata presentata la vuelta il giro e il tour le abbiamo già descritti in maniera esaustiva nei precedenti video fare un video dedicato solo per la vuelta magari non era il caso e quindi abbiamo assemblato tutti e tre giri andiamo a far vedere le differenze tra giro tour e vuelta soprattutto nei momenti chiave non tanto nelle tappe intermedie o di trasferimento per velocisti ma nei momenti chiave partiamo subito col botto perché diamo subito i voti e poi le spiegheremo durante il video e le differenze a livello numerico numero di tappe tutti e tre i grandi giri 21 tappe chilometri totali qui c'è subito la prima differenza mulla 3410 virgola tre per il giro 3328 per il tour e 3280 per la vuelta la vuelta ovvio è quella più corta perché ha le tappe più corte in generale quindi è disegnata un po sempre così però tra gira e vuelta c'è praticamente una tappa di differenza perché si parla di di 130 chilometri iniziano a 70 tappe per velocisti poi lo sapete bene che le tappe velocisti non sono sempre rispettate però sulla carta dovrebbero essere 7 giro 6 tour 7 vuelta anche se il giro presenta un paio di tappe molto insidiose che non sono proprio per velocisti al giro saranno forse una 2 meno 5 sicure poi vediamo però sulle tappe velocisti non ci concentriamo quest'oggi tappe di media montagna sono interessanti perché la vuelta poi capiremo perché ne ha solo 5 tour 7 e giro 6 allora tra il tour e la vuelta saranno tutte molto simili cosa vuol dire arrivettini in salitella strappettini prima del finale salitelline di 2 3 chilometri al 3 4 per cento mentre le tappe di media montagna al giro facciamo degli esempi veloci l'arrivo a potenza che una tappa più o meno appenninica quella di torino e quella di napoli sono tre tappe di media montagna con tanti strappetti che possono si possono nascondere tanti trabocchetti ecco in queste tappe sono più impegnative secondo noi non tanto per l'arrivo perché l'arrivo magari non è in salitella come al tour e alla vuelta in queste tappe di media montagna ma in tutto il percorso nell'altrimetina generale nella lunghezza della tappa arrivi in salita 5 5 8 però c'è da fare una e poi dopo le vediamo nello specifico al giro e al tour sono dei signor arrivi in salita alla vuelta mi sento di dire un grosso no ce n'è uno bello due e gli altri sono poca roba chilometri a cronometro alto dato dato interessante 26,3 giro 53 il tour e 54 punti della vuelta con un asterisco l'asterisco cos'è è la squadra iniziale quindi in realtà la vuelta di crono individuale ha la metà dei chilometri quindi sono 23 chilometri insieme quindi sì 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 la crono squadra quindi ne rimangono a trentina trentuno e all'altra sì tanto non lo vediamo successivamente comunque tanto è perché la crono squadra un po di differenza la fa e la crono individuale di trentun chilometri non è poco allora la vuelta a me piace quando il chilometraggio è più di 50 chilometri a livello di crono a me piace però però la verità non lo so non lo so io la crono squadra la farei un pochino più corta e darei e metterei due cronometro un pochino più corte ciascuna però questa è la mia idea il giro a me non piacciono questi pochi chilometri al cronometro mentre a te piacciono mentre il tour è una via di mezzo e a me piace onestamente a me piace tappo e cronometro infatti sono due 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 con l'asterisco alla vuelta di slivello complessivo altimetrico e qui c'è un'altra differenza oltre a chilometri il giro presenta 51 mila metri di slivello che poi non saranno poco precisi però dalle dalle cartine che abbiamo i dati sono questi poi ci siamo calcolati grazie a lucapedia bertacchini tutte le altimetrie al lavoro assurdo di tour e vuelta perché non si trova le altimetrie di slivello chiaramente e abbiamo trovato questi dati ovvero 48.552 più o meno veritieri del tour e 49.100 della vuelta quindi sono tutti tutti simili però il giro ha quei 2.000 3.000 metri in più rispetto alla vuelta e al tour e quindi considerando i chilometri totali i pochi chilometri a crono e il dislivello che è superiore alle altre due corse io il mio voto per il giro potrebbe alzarsi un po' e andare a 8 anche diciamo vedo il giro e del tour un gradino sopra alla volta però alla pari diciamo noi noi abbiamo dato infatti il seguente voto al giro d'italia perché poi andiamo nello specifico dopo abbiamo dato sette e mezzo 8 al tour de france e sette alla vuelta poi vi spieghiamo il perché poi il moulin è leggermente in disaccordo tra giro e tour io li vedo alla pari li vedo alla pari perché il giro è impegnativo è molto impegnativo chiaramente te ritieni che senza crono non sia completo però allora parlando delle crono eccole qua queste sono le tappe a crono del giro d'italia abbiamo la tappa di 9.2 km che è la seconda tappa e poi la tappa 21 di 17.1 che è l'ultimo quindi praticamente inizio giro e fine giro fondamentalmente con le torricelle in mezzo appunto al circuito di verona io dico per come disegnato il giro questa crono finale servirà poco per come disegnato il giro nel senso non è disegnato male attenzione però sta crono qui me la metti magari tre giorni prima della fine del giro con un paio di tappe in montagna successive allora ha un senso così alla fine secondo me i giochi saranno già fatti poi è troppo corta le differenze saranno non lo so nell'ordine del minuto minuto e mezzo a parte però vediamo che grande c'è super dominatore non ce ne dovrebbero essere oggi du moulin ha dichiarato cose interessanti quindi attenzione non so se non agire però attenzione detto questo tappe al tour de france invece abbiamo la tappa 1 si parte con 13.5 non è un prologo perché non avere proprio cronometro corta e poi una sfacchinata di 40.5 km alla penultima tappa anche qui solito secondo me errore del giro mettono la crono alla penultima tappa in realtà mi piacerebbe una bella crono come andava nell'anni 90 tra le alpi pirenei o tra pirenei le alpi ma sai perché no e lo so perché questa è la rivincita teorica tra roglic e poverci e poi abbiamo invece la crono squadre alla velta 23.3 che è la prima tappa subito si che partirà dall'olanda da utrecht mentre il tour è dalla danimarca e il giro appunto a budapest quindi tre partenze diciamo non nazionali e poi la tappa 10 31.1 qui invece la velta cosa fa fa esattamente l'opposto mette due crono crono squadre crono singolare quindi individuale addirittura alla tappa 10 quindi praticamente avremo poi seconda settimana metà della seconda settimana e terza settimana totalmente senza crono quindi stravolto il discorso del cronometro battaglia in salita per recuperare ma parte marchio intanto si dipende di chi saranno i protagonisti che altrimenti in questo video andiamo a giudicare il percorso e non le start list perché poi con le start list chiaramente i voti potrebbero variare quindi poi per le start list faremo un altro video se le avremo tutte più o meno definitive in tempi in tempi brevi ecco partiamo con abbiamo ora selezionato le tre tappe in base al chilometraggio e al dislivello e soprattutto agli ultimi chilometri impegnativi le tre tappe più dure di giro tour e guetta secondo noi e poi magari sbagliamo queste sono secondo noi le tre tappe più impegnative abbiamo il giro d'italia che presenta tre tappe la prima con arrivo al blockhouse tappa abbastanza importante direi perché dopo l'etna è la vera prima tappa di salita onestamente l'etna non pensiamo faccia queste grandi differenze poi abbiamo la tappa 16 200 chilometri di lunghezza e la tappa con più dislivello di giro d'italia 5440 che è la famosa tappa diciamo famosa tappa tra virgolette che non è uguale a quelle storicamente fatte costelvio mortirolo aprica santa cristina e aprica ma verrà fatta dall'altro versante facendo il mortirolo dal versante un pochino più facile diciamo lasciamo lasciamo poi a voi le considerazioni verrà fatto poi prima il golletto di cadino che è una salita non difficilissima mortirolo da edolo e non da ammazzo poi c'è il teglio che la salita abbastanza difficile poi si arriva si scende si sale in santa cristina e si arriva a pica santa cristina ha fatto tutto diciamo e poi a metà si si riprende la strada vecchia che facevano anche negli anni 90 e poi abbiamo la tappa 20 che è la non la che tappa è la tappa 20 giro d'italia è la tappa no è la tappa è la tappa è la tappa ho detto dissi subito che ce ne sarebbero volute due però ci accontentiamo di una speriamo di farla il meteo e roba vale è la tappa e questo concordo arrivo sulla marmolata si fa prima il san pellegrino che è una signor salita il portoi è una bella salita non difficilissima però poi la marmolata alla fine e probabilmente il porto sulle gambe si sentirà poi abbiamo il tour de france e poi alla tappa 20 ovviamente la tappa 20 che è la penultima certo poi abbiamo il tour de france abbiamo selezionato queste tre tappe in base vi ripeto arrivo difficile chilometraggio e dislivello totale col du granon che è tappa 11 150 km 4036 metri dislivello con il galibier dal versante telegraph che quello storico di pantani per capirsi e granon in fondo che è una bella bella salita 11,4 chilometri al 9.1 per cento medio poi andremo anche nel dettaglio dopo tappa 12 presente il galibier fatto dal versante opposto quindi l'utare galibier si scende sul telegraph poi abbiamo la croix de ferre e l'alpe duet storica e qui non c'è bisogno di parlare tanto 165 chilometri 4661 metri di dislivello tappa 18 anche qua tappa storica quindi il tour de france come il giro in parte cerca un po di di ripercorrere gli anni passati ecco con le salite ripresenta l'utacam c'è anche l'obisc e il sul or prima quindi una tappa molto difficile 4041 metri dislivello tappa 18 144 queste questa è l'ultima tappa diciamo è la settimana pirenaica mentre la precedente la seconda settimana sarà alpina e qui arriva il primo tasto dolente se vedete bene le tappe della vuelta tappa 6 15 e 20 non sono così né lunghe e né difficile perché si supera veramente è quello che dove praticamente è quello che volevamo dire no in pratica è il succo di tutto questo confronto sì in pratica in pratica sì il succo di questo confronto è questo e lo vediamo bene su questa foto appunto perché perché le tappe della vuelta presentano delle altimetrie relativamente difficili o meglio difficili però se vedete bene la differenza tra la parte sinistra dello schermo e la destra c'è una grande differenza e soprattutto anche nelle nella pendenza delle salite però la andiamo a vedere successivamente tappa 6 di 4072 metri dislivello scarsi 180 km tappa 15 4052 148 molto corta tappa 20 176 ma 39 e queste sono le tre tappe con più dislivello e attenzione con gli arrivi diciamo difficili le altre sono magari arrivi anche insidiosi ma molto più facili precedentemente l'ultima salita quindi onestamente vula da qui si trae nel frattempo vi faccio vedere appunto è evidente è evidente anche in generale come percorso percorso nervoso però con tappe abbastanza corte a parte si era nevada che va a 2005 quindi è importante una salita importante che farà differenze però per il resto ci sono tante tappe di che sono considerate di montagna ma che in realtà sono di media montagna diciamo la vuelta diciamo alla caratteristica quest'anno come negli ultimi anni non presentare due tre salitone la vuelta è caratterizzata da piccole salite strappi secchi due tre chilometri al venticinque per cento dove le differenze sono come sullo zoncolan 20 30 secondi però zoncolan è una salita attenzione cioè difficile vedere minuti su uno strappo di due chilometri al 15 per cento vedi i secondi le differenze le fai all'utacam all'alpe 2 è però ricordiamoci che l'anno scorso la tappa che ha fatto più differenza alla vuelta è stata la tappa 20 che sulla carta era una tappa non dico inutile ma insomma era di certo la più attesa infatti abbiamo inserito la 20 e non la con numero 14 che prevedeva un arrivo in salita magari più interessante però arriva molto presto molto prima e quindi essendo anche la tappa precedente a quella della Sierra Nevada è probabile che succeda che non succeda granché è più probabile che una tappa come l'anno come quella dell'anno passato capito che magari non aveva grandi grandi picchi poi faccia una strage come fa che a noi mulla piace vedere perlomeno tre tapponi con due tre salite sopra i 10 12 15 chilometri con pendenze più o meno importanti fatte ripetutamente in modo tale che la tappa diventi dura o perlomeno se non dura lì per lì si sentirà poi nei giorni successivi queste queste non sono tappe durissime nel senso nel con nel complesso possiamo dirla tutta sono tappe per rogric e questo non solo non solo io volevo fare un altro nome però non lo faccio ha detto che chi non si parla di stat list ok va bene pensaci da solo analizziamo analizziamo perché non si sa ancora analizziamo le salite finali o semi finali del giro d'italia eccole qua allora come tante salite chiaramente le conoscete già ragazzi perché sono abbastanza famose direi comunque l'etna è una salita come abbiamo già visto non difficilissima si creeranno di stacchi relativamente però come si dice sempre prima salita del giro si saprà chi non vince il giro ma non si saprà chi può vincerlo il block house seconda salita la tappa 9 cioè secondo arrivo in salita tappa 9 il block house è una tappa insidiosa non credo cosa fa una strage la tappa 9 anche secondo me non crede anche uno perché ha molto dislivello è la prima tappa impegnativa con tanto dislivello siamo già alla nona tappa c'è già ci saranno già state tappe insidiose prima e quindi block house farà selezione anche secondo me perché la salita lunga e difficile soprattutto nella seconda parte e quindi attenzione non si arriva proprio in cima al block house comunque si arriva a 1665 metri ed è comunque insidiosa tappa di cogne 15 qui non succederà ragazzi segnalato assolutamente niente è una salita banale è una salita banale non credo che succederà qualcosa di anche le due salite precedenti sono sì un po difficili ma lontane dal traguardo niente di che tappa 16 santa cristina allora l'arrivo all'aprica però la salita decisiva sarà praticamente a poco più di di sei chilometri dall'arrivo che è tutta discesa e falso piano per arrivare a aprica che sono veramente due chilometri nemmeno anzi meno di un chilometro e qualcosa se non ricordo male l'ho fatta quest'estate e la e la santa cristina è tosta ragazzi pantani ci ha staccato in durain nel 94 quindi è una bella salita è tantissimo che non la fanno per problemi c'erano problemi su nell'asfalto quindi presumo che l'abbiano sistemata quindi forse da da quest'anno la la rivedremo più spesso e sarebbe spettacolare mortirolo e santa cristina uno dietro l'altro sarebbe veramente tanta roba poi il vero mortirolo attenzione d'ammazzo in valtellina tappa 17 e anche qui il menador non è l'ultima salita perché poi si arriva diciamo in in un falso piano in discesa però il menador è innanzitutto la tappa successiva quindi subito dopo la tappa dell'aprica e quindi se l'aprica non farà morti probabilmente le farà il menador farà il matador il matador e tappa 20 le pendenze ragazzi le vedete e menador presenta una pendenza media veramente alta del 9.9 per cento e soprattutto gli ultimi chilometri sono pendenza media 11.2 per cento quindi attenzione e praticamente è un menador più lungo la marmolada e l'ho fatta quest'anno ed è veramente tosta malga ciappella è fino a capanna bill sono quei diciamo 45 chilometri veramente veramente tosti mai sotto il 15 per cento allucinante ragazzi quindi queste sono le salite del del giro d'italia mulla cosa ne pensi diciamo le salite finali sì 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 no mi piace mi piace il giro mi piace ho detto te ci trovi il difetto non solo te in generale molte molte persone ci trovano il difetto delle crono io no quindi per me un giro molto interessante sicuramente farà farà grande selezione cioè sarà molto duro vedo un giro veramente uno dei giri più duri degli ultimi anni perfetto tour de france anche qua solito discorso andiamo a analizzare le salite prossime all'arrivo le salite finale più difficili nel contesto della tappa dura chiaramente eccole qua allora tappa 7 la planche dei belfils gli ultimi sette chilometri sono tosti ricordati tutti nibali nel 2014 che staccò tutti o la vittoria di frum è una salita che abbiamo visto in più ci sarà l'ultimo chilometro come abbiamo visto recentemente con la vittoria di teuns e maglia gialla di ciccone presa appunto a discapito a discapito di alla philippe e si farà quindi anche lo sterrato ed è ancora più dura come salita gli ultimi sette chilometri sono veramente tosti pendenze sempre sopra il 10 per cento tappa 12 l'alpe duets ricordiamo che viene dopo il galibier e la croix de ferre quindi l'alpe duets già di per sé una salita che comunque fa selezione perché è costantemente 8 9 8 9 8 9 per cento sempre e ricordate tutti se chi non conosce l'alpe duets vi consiglio una tappa su youtube 1997 marco pantani cioè quella tappa lì è uno è uno spettacolo tappa 11 l'ho saltata per mio errore col du granon prima dell'alpe duets quindi c'è il granon che è una bella tappa è una bella tappa è una bella salita forse anche più dura dell'alpe duets ok quindi attenzione sono è un chilometro più corta ma come pendenza media è un po più difficile quindi una tappa dietro l'altra come ho detto prima per il laprica il menador se non muoiano ciclisticamente parlando sul col du granon ci saranno morti sull'alpe duets tappa 17 il per agus che ha una salita non molto praticata dal tour de france infatti difficilmente si riesce a trovare anche l'altimetria abbiamo riuscito a trovarla gli ultimi 7 8 chilometri pendenza media del 7 8 7 8 per cento ma gli ultimi sono veramente tosti e poi l'urdo tacam che forse di tutte queste la salita più facile è la più lunga però è la più facile però arriva a fine tour quindi potrebbero succedere dei disastri anche sull'urdo tacam comunque storicamente l'urdo tacam ha sempre creato grossi distacchi tra i big nella classifica ci sono anche altre salite chiaramente al tour de france però queste sono quelle decisive c'è anche la salita di c'è anche il doppio galibè che vengono appunto nelle due tappe alpine comunque direi che questo queste salite si commentano da sole quando c'è tutto questo i colori diciamo ci fa bastano i colori il rosso e nero non perché sono milanista insomma quando vedi tutto questo rosso e questo nero insieme che vuoi dire applausi aspetti che arrivi più veloci possibile è vero no i colori lì fanno godere già i colori cioè ti giuro quando vedi i colori vedi tutto rosso nero che non ho i gradoni non diciamo tutto visto tutto impegnativo in questo modo veramente già ti immagini no come sarà c'è già l'acquolina in bocca le salite della wet e qui secondo noi arriva e lo vedrete arriva il problema anche qui abbiamo selezionato tutte quelle salite nella parte finale ragazzi con una lunghezza accettabile perché anche il tour de france ha due tre arrivettini in salita ma son rampe da uno due chilometri al cinque sei per cento sette non solo arrivi in salita ragazzi lì si fa selezione solo negli ultimi 500 metri quando sprinti per vincere o per guadagnare tre secondi quindi abbiamo selezionato le salite lo ripetiamo che hanno comunque una lunghezza per essere chiamate salite e in un contesto di tappa che ha un senso ok quindi magari mancheranno degli strappetti delle cosette scrivetelo nei commenti sotto secondo voi ci siamo dimenticati qualche tappa importante chiaramente tra parentesi e qui mettiamo che poi lo diciamo alla fine che ogni giro avrà un suo perché una tappa simbolo una tappa chiave dove può cambiare la classifica che magari non abbiamo compreso e lo diciamo alla fine vuelta di spagna eccole qua allora la salita di piccoiano non l'abbiamo trovata siamo più sull'arcobaleno vedi sì qui siamo più sull'arcobaleno ringraziamo la flam rouge perché abbiamo preso tutte le altimetrie però la casa vita di piccoiano è introvabile siamo riusciti a calcolarla noi come in qualche maniera detto questo vedete bene sono salite nella tappa 6 tappa 8 9 12 14 15 17 18 sono tutte salite a parte sierra nevada che è una roba importante quasi 20 chilometri pendenza media 7 7 e questa tosta poi 2005 ragazzi poi come vedete tutte le altre salite come ha detto il mula sono un porco valeno cioè non presentano pendenze costante a parte il les prares che è una salita di 3 4 chilometri cortissima cortissima ho preso la parte finale ho preso la parte finale nella tappa 9 però come vedete sono rampe di garage però sono salite dove sì la pendenza media è alta ma sono corte e quindi vediamo cosa potrà succedere però ecco anche a me piace di più un sierra nevada e come vedete la vuelta dai colori non presenta anche sierra della pandera che si è già vista anche in passato come salita è bella ma presenta tanti tratti per respirare troppi per recuperare sì quindi la differenza alla fine cosa succederà che tutti aspetteranno gli ultimi due tre chilometri in tre chilometri per forza tra i big ci potrà essere un minuto 56 onde al massimo è difficile che vada che vada superiore al minuto la differenza poi chiaro se può gacciare un roglic dominano è quello è un altro discorso la colla fan cuaia è una bella salita di 10 chilometri 7 7 pendenza media con gli ultimi chilometri tosti quindi due tre salite importanti anche alla vuelta ci sono il problema della vuelta che anche se la salita finale è bella e manca tutto il resto prima perché ci sono salitelle da di seconda terza categoria qualcosina di prima ma compendenze abbastanza agevoli quindi qualche salita finale due tre quattro sono accettabili però manca il dislivello la lunghezza della tappa e tutte le salite precedenti che che sono poche giusto le corse le fanno i corridori quindi probabilmente sarà sarà la corsa più spettacolare più avvincente non lo so degli ultimi dieci anni però sulla carta è inferiore agli altri due questo è oggettivo nelle salite finale nelle salite che abbiamo fatto vedere della vuelta non abbiamo compreso l'ultima salita della tappa 20 perché in realtà poi si arriva in falso piano c'è diversi chilometri tra l'ultima salita e falso piano la tappa 20 diciamo è da guardare l'abbiamo fatta vedere prima è da guardare con un'ottica di totalità cioè arriva in fondo alla vuelta c'è tante salite di prima categoria seconda categoria pendenze non eccessive lunghezze non eccessive quindi non ci siamo sentiti di giudicare quell'ultima salita come una delle più impegnative della vuelta però è tutta la totalità della tappa che potrà creare un po di casino ecco poi le ultime tappe della vuelta sono sempre molto più aperte rispetto al giro arturo detto questo alla vuelta e ora arriviamo al momento chiave in conclusione non riusciamo a trovare una tappa dove probabilmente si deciderà o potrà essere decisa la vuelta una tappa diciamo che i big possono o sottovalutare o devono stare molto attenti è difficile trovarla la vuelta quest'anno su tutte tappe molto simili è difficile al giro al tour e io le posso trovare ad esempio al tour de france mi viene in mente la tappa del pavè perché la tappa del pavè che è la tappa sarà più pericolosa di tutte queste salite è la tappa 5 è la tappa 5 che presenta 11 settori in pavè per più di 19 chilometri tutti nella seconda parte e attenzione quindi questa è una tappa dove si può decidere anche il tour de france caduta se piove lasciamo perdere lasciamo perdere ok al giro in italia mi viene in mente le due tappe in circuito napoli e torino ora napoli tanto tanto perché potrebbe essere una tappa comunque per ruote veloci se gestita una certa maniera torino attenzione perché sono quelle tappe che magari uno non ti aspetti che ti attacca invece magari per recuperare qualche secondo uno attacca 20 30 chilometri dall'arrivo non credo che succeda onestamente perché di tappe per far casino in montagna al giro d'italia ci sono anche troppe anche troppe quindi quelle ci sono un paio anche lì al giro d'italia di arrivetti in salita che non abbiamo considerato perché sono comunque pendenze non eccessive e lunghezze non non esaltanti però al giro d'italia mi viene in mente quelle tappe a circuito che possono creare un po di un po di confusione ecco oppure anche la tappa di filottrano ad esempio giusto no no quelle tappe di media montagna quindi i cosiddetti di media montagna al giro sono sono impegnative quindi sono le più impegnative diciamo anche rispetto a quelle del tour sì la tappa di sì sì la tappa di iesi che arriva che passa da filottrano appunto del paese di michele scarponi dove per dai 100 190 chilometri quindi gli ultimi 94 chilometri non c'è un metro di pianura sono tutti strappi consecutivi uno dietro l'altro quindi è succedere di tutto bravo più che la tappa di torino io starei attento alla tappa di iesi però sono un paio di tappe ecco la vuelta queste tappe lì non ci sono onestamente non c'è qualcosa nei paesi baschi un po nervosi come tracciati però insomma vediamo poca roba poca roba secondo me quindi ripetiamo i voti alla fine diamo un 7 e mezzo al giro d'italia quasi un 7,7 per me dai per me un 8 artrude france ma il mezzo punto in più per me è per la distribuzione dei chilometri al cronometro ok che sono migliori rispetto al giro che 26.3 secondo me sono troppo pochi per un grande giro e la vuelta perché presenta appunto questo deficit sì tanti arrivi in salita ma alla fine poi manca la ciccia ecco poi chiaramente come ha detto il mullà la corsa la fanno corridori quindi questo è quanto ragazzi fateci sapere cosa pensate voi dei tre percorsi che voti date indicativamente qual è il meglio qual è il peggio e se pensate che abbiamo ci abbiamo preso oppure no se non abbiamo considerato qualche tappa del giro del tour e della vuelta che in realtà può nascondere dei trabocchetti mullà vuoi aggiungere nulla o salutiamo no no va bene a posto a posto abbiamo detto tutto ciao ragazzi arrivederci